Musica Buonasera, ben ritrovati ad un'altra puntata di Vita d'Atleta, questa sera ospite nei nostri studi, Yuri Silvestri, una promessa della Frisky locale, ma anzi oserei dire della Frisky mondiale. Grazie Yuri per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi ospitato. Con molto piacere. Allora Yuri, tra pochissimi giorni al Via, qui a Livigno, un'altra edizione della Nine Nights. L'anno scorso hai avuto la piacere di essere della partita di questi cavalieri di fama mondiale. Hai novità, quest'anno sarai dell'otto dei cavalieri. Ma io lo spero. Sono stato ancora contattato anche quest'anno sia da Motolino che da Nico per qualificarmi ancora come video del Nine Nights e appunto questa settimana sto filmando il video per qualificarmi al Nine Nights. Quindi cosa vuol dire? Che anche noi da casa possiamo votare il tuo video per far sì che potrai partecipare? Certo. Non so bene come siano le votazioni o dove si vota, però un contributo comunque lo si può sempre dare. Certo. Allora ci informiamo tutti quanti e ovviamente votiamo il nostro Yuri Silvestri per far sì che potremo vederlo in azione i primi di aprile sul bellissimo castello che verrà costruito, anzi si sta costruendo appunto sulle piste della Motolino. Yuri, hai avuto modo di passarci sicuramente in questi giorni? Ti sembra un castello probabilmente ancora più grande, più maestoso delle scorse edizioni? No, sono passato questi giorni una o due volte da Sponda a dare solo un occhio per curiosità al castello. Ho visto anche il progetto che hanno fatto e quest'anno comunque rende molto di più rispetto anche agli altri anni. E anche come salti ce ne sono due in più rispetto al primo anno. No, rende un sacco ma comunque come ogni anno fa sempre una bella scena. L'anno scorso eri 17enne, 18enne, insomma tra i più giovani della partita è stata una grande emozione suppongo. Sì, no, poi girarsi con i più forti serve sia come esperienza che come divertimento. Che impressione ti hanno fatto questi super campioni? Insomma veramente sono i migliori al mondo? Sono personaggi di livello? Sì, sicuramente si nota perché sono proprio tranquilli nel loro sport, nelle cose che loro fanno perché le vedi che le fanno da molti anni e ormai hanno comunque preso un po' il ritmo di come si svolgono le cose. Ti piacerebbe anche te fare questa vita da professionista dello sci? Eh, non sarebbe male. Poi se è una cosa che ti piace credo che è ancora più piacevole da fare. Certo, è ovviamente la tua passione ma per ora non sei ancora arrivato a quei livelli che ti permetta di vivere questo sport. Infatti tu durante l'estate ma non solo lavori? Sì, durante l'estate lavoro anche perché se no non saprei cosa fare d'altronde. Però mi piace anche il mio lavoro perciò lo faccio anche direi ben volentieri. Ricordiamo che cosa fai, Yuri? Faccio il muratore presso l'impresa di lei di mio padre. Beh, insomma, un'attività faticosa. Durante l'estate riesci comunque ad allenarti oppure con novembre in forche gli sci e pronti via? Ma non riesco tanto però potrei, se mi dovessi impegnare un po' di più, forse prendersi la domenica o anche andare solo fino allo Stelvio a fare solo anche due piste per tenere un po' la confidenza con la neve. Certo, anche perché comunque dall'anno scorso, questa è la seconda stagione, per te si sono aperte le porte della Nazionale quindi questo è un motivo in più per far bene e per impegnarsi. Esatto, sono stato ancora fortunato, diciamo che mi hanno ancora preso in Nazionale per il secondo anno allora è una motivazione in più per impegnarmi o comunque cercare sempre di progredire un po' il mio livello. Parliamo, Iuri, della tua stagione, di questa stagione che è tuttora in corso. Come è cominciata e come sta proseguendo? È incominciata un po' non benissimo perché ho avuto un leggero infortunio qualche giorno prima di una gara di Coppa del Mondo in Svizzera era l'ultima gara prima delle Olimpiadi e allora purtroppo non sono riuscito a partecipare per un leggero infortunio alla mano e da lì non ho più fatto gare fino a settimana scorsa che siamo andati a Kreisberg, se non sbaglio, si chiama così in Austria a fare due Coppa Europa. Come sono andate? In una ho fatto settimo e nell'altra quinto. Iuri, prima di continuare ancora a scoprire come è andata la tua stagione, facciamo capire anche agli ospiti che ci stanno seguendo da casa come si svolge una gara di freschino? Abbiamo in mente il Nine Knights, tutti noi, quindi salte, evoluzioni ma una gara di Coppa del Mondo e di Coppa Europa ha un altro tipo di svolgimento? Esatto, una gara di Coppa del Mondo, Coppa Europa diciamo che è un po' più tecnica rispetto al Nine Knights anche forse come difficoltà perché si svolge su molte strutture, non solo su una struttura come il Nine Knights abbiamo un salto singolo però diciamo bello grande rispetto ai salti che troviamo in Coppa del Mondo, Coppa Europa abbiamo tre strutture di rail dove diciamo si può scivolare sopra con gli sci e troviamo tre salti e in base a questo viene calcolato i punteggi sia sulle strutture di rail sia sulle strutture dei salti in base se lo prendi il switch che sarebbe indietro lo prendi frontale normale Tu sei più forte sul rail o sui salti? Quest'anno diciamo che negli ultimi anni sono un po' peggiorato nei rail, mi sono concentrato un po' più nei salti perché comunque trovo sempre bei salti al motolino e una volta che inizi la giornata a saltarci ti scoccia quasi fermarti per andare a fare le strutture di rail che si trovano dall'altra parte e allora piano piano cerco sempre di progredire un po' uno e un po' l'altro Qual è il tuo salto migliore, il tuo cavallo da battaglia? Ma ultimamente sto provando a girare i doppi nell'altra rotazione perché io quando salto giro verso sinistra e adesso sto provando a girare i doppi verso destra un po' una roba strana da spiegare però è abbastanza tecnica Perché comunque un salto fatto a destra piuttosto che a sinistra rappresenta un coefficiente diverso nell'assegnazione dei punteggi gara? Esatto perché diciamo che parti sempre dai primi giorni che fai freestyle, dai primi giorni che salti a imparare a girare da una parte dopo ognuno si abitua di più sia o sinistra o destra in base a dove si trova meglio e mano a mano che vai avanti bisogna sempre cercare di progredire a tenere allenato sia sinistra che la destra Benissimo, Yuri eravamo rimasti quindi alla settimana scorsa Coppa Europa-Kreisberg in Austria la settimana prossima invece Coppa del Mondo Esatto, anche lì sarà una Coppa del Mondo in slow style penso ci saranno tre strutture, tre salti e speriamo vaglia bene infatti questa settimana farò due o tre giorni di allenamento prima e un giorno di pausa per non arrivare un po' diciamo stanco alla gara Anche perché da domani in avanti ti aspettano due o tre settimane in base al Nine Nights più che faticose ci saranno anche i mondiali junior Esatto, settimana dopo la Coppa del Mondo in Svizzera ci saranno i mondiali junior a Chiesa Valmalenco e appena torno dai mondiali junior se sono qualificato per il Nine Nights ci sarà ancora una settimana al Nine Nights Quindi un bel tour de force sicuramente Yuri secondo te hai possibilità, proprio diciamocela fuori dai denti possibilità di podio per i mondiali di Chiesa Valmalenco? Beh per i mondiali non so se riesco bene a allenarmi in questi giorni e la settimana dopo forse non dico il podio ma siamo lì L'anno scorso ho fatto un dodicesimo classificato non era male come punteggio però si cerca sempre di dare il meglio Cioè quello indubbiamente chi sono gli avversari da battere? Gli avversari sono sicuramente come lo scorso anno svizzeri, norvegesi, svedesi, francesi un po' tutti comunque a livello mondiale, un po' tutti atleti a livello mondiale Più grandi di te a livello di età? Ma no perché i mondiali junior se non sbaglio quest'anno l'ultima categoria che può competere è fino al 94 se non sbaglio 95 Comunque o sono io uno dei più grandi di età o mi manca ancora o sono altri atleti che hanno un anno in più di me Certo mondiali da seguire in quanto Chiesa Valmalenco ci sarà anche Luca Ferrioli l'altro ragazzo freestyler di Livigno lui si cimenterà nella specialità di Gobbe quindi stiamo attenti e vi terremo d'occhio Iuri Proseguiamo, quest'anno Sochi 2014, fino a un certo punto c'era aria di Olimpiadi per te? Era un po' aria, un po' strana diciamo che non ero lì lì comunque fino all'anno scorso come punteggio nazionale della nostra categoria per fortuna o no comunque ero lì lì e dovevo un po' più allenarmi duramente in inizio stagione o iniziare a scaldarmi un po' prima e sono stato anche sfortunato che ho avuto l'infortunio qualche giorno prima dell'ultima gara di Coppa del Mondo che chissà se avessi avuto proprio una gran fortuna, proprio grande sarei arrivato anche solo sul podio sarebbe stato diciamo non così tanto scontato Un sogno Iuri che era comunque alla tua portata avrai sicuramente seguito le gare in tv da casa che cosa ti è sembrato? Ma un gran bel livello ma anche sicuramente di noi c'era un italiano Marcus Heder l'unico della nazionale freschi Italia a essersi qualificato per Olimpiadi non me l'aspettavo da lui perché ha fatto un gran bel piazzamento e una gran bella run ho seguito sia l'Italia che comunque anche gli altri però sono rimasto veramente stupito dal piazzamento degli italiani Certo, un Marcus Heder che non è molto distante dai tuoi livelli quindi magari ti ha fatto riflettere e dire se mi impegnavo un po' di più Insomma è un po' più forte Belle gare ma anche strutture molto tra virgolette pericolose, molto impegnative Esatto, come strutture erano diciamo un po' più impegnative di quelle che troviamo a Coppa del Mondo o comunque anche Coppa d'Europa e ho letto che forse hanno avuto un po' da lamentarsi comunque perché anche da quel che ho visto da televisione scaldava molto a soci e la neve era un po' lenta poi se devi saltare finché devi fare le strutture diciamo che ti va ancora bene però quando devi saltare sui salti grossi se non ero in corsa non è il massimo hanno avuto un po' di difficoltà le donne della loro categoria delle donne durante le finali perché appunto aveva smollato troppo la neve per il problema del caldo Certo, c'è stato anche un incidente molto grave l'attreta russa che poi purtroppo è rimasta paralizzata e questa è stata la nota negativa di questa Olimpiadi dedicata al friski Iuri, è pericoloso questo sport? È pericoloso comunque diciamo tutti gli sport sono pericolosi dopo ognuno deve quando fa uno sport comunque deve sempre avere un po' di testa e il nostro anche se sai la testa basta proprio un piccolo errore per rimanerci lì per avere un infortunio nella tua carriera hai avuto infortuni importanti oppure è andata più o meno liscia? Grazie a Dio sono stato abbastanza benedetto facciamo gli scongiuri ovviamente grazie a Dio sono stato abbastanza benedetto perché certe volte l'ho rischiata anch'io piuttosto che diciamo che l'ho tutta bene però quando capita sono botta ho avuto un infortunio nel forse 2009 era il 2010 ho rotto il polso per fortuna non era una frattura diciamo comunque così grave da non poter più sciare però già lì ci pensi che dici che basta poco per farsi male beh certamente la vostra specialità più di un'altra è una delle quali in cui quando tu cominci a saltare non la puoi prendere alla leggera per dire non ho voglia di fare questo salto ma lo faccio lo stesso no perché insomma si salta diversi metri d'altezza e assolutamente bisogna essere concentrati anche con la testa esatto per quello che serve molto allenarsi perché bisogna sempre prendere un po' comunque di fiducia sia con l'aria che con il salto che con gli sci che staccano da terra e allora ci vuole un po' più di allenamento forse rispetto agli altri sport diciamo ma quando siete in aria che insomma ci state probabilmente due o tre secondi si ha tempo di riflettere e di pensare che cosa pensi quando sei su? diciamo che non è che ci pensi tanto non ti viene tanto in mente a quel che pensi speri di atterrare in piedi però la sensazione è perché sei proprio nel vuoto non senti niente sei solo con te stesso certo no? è una sensazione che possono provare in pochi effettivamente quella del volo e poi arriva la parte più difficile che è quella dell'atterraggio esatto esatto che è un po' più complicato dipende un po' da cosa si fa in aria si intuisce quando un salto è stato errato dalla partenza insomma si ha il tempo di correggere il salto? beh diciamo sì le chiamiamo un po' noi le gattate come gatti che li lanci dal terrazzo in due secondi riescono a raddrizzarsi e sì lo intuisci però intuisci anche subito quando esci dal salto se è sbagliato o no allora lì cerchi di correggere al volo prima di arrivare sull'atterraggio più o meno comunque riusciamo sempre a schivarcelo diciamo benissimo Yuri ma com'è che è cominciata questa tua passione per l'uscia a doppia punta? ma io ho iniziato quando andavo in prima media a 12 anni che comunque ho qualche compagno qualche compagno anche delle classi superiori che lo faceva e allora lì ho conosciuto nuovi diciamo nuovi amici che mi hanno portato su questa strada e è stato amore a prima vista? è bello perché comunque è uno sport libero che è uno sport che devi farlo perché ti diverti che a stare in compagnia comunque ti diverti sempre e in più se pratichi uno sport assieme non è neanche male sei cresciuto tra le fila del Freestyle Club Livigno? esatto ho iniziato a fare il corso quell'anno lì in prima media all'American ancora mi ricordo l'impianto e facevano già lì dei mini contest chiamiamoli qui mini gare slope style sempre rail e salti dove lì comunque ti confrontavi uno con l'altro e riuscivi a magari a metterti a livello e migliorare tra di noi hai avuto una buona scuola comunque i suoi maestri erano signori che hanno partecipato alle Olimpiadi esatto comunque anche loro avevano esperienza alle spalle e sapevano quello che ti insegnavano facciamo qualche nome come ho avuto allenatore Simone Galli Loris Leoni Mattia Pegorari e anche la Mary Panavicini Yuri hai accennato hai cominciato con Frischi a 12 anni e prima sciavi che cosa facevi? prima diciamo che provavo a fare l'agonistica le gare come Cigambola o gare varie quali Vigno quindi di sci alpino esatto però non avevo questi gran risultati ero più o meno ultimo o penultimo della categoria d'estate invece che cosa facevi? d'estate aiutavo mio cugino David alla scuola a scifondo ai gommoni se no più o meno andavo quasi sempre a saltare ai materassini beh quindi anche il fatto di fare i tappeti elastici ti ha indirizzato su questa strada esatto anche lì diciamo che mi ha aiutato tanto e forse ai primi tempi non capivo cosa serviva lo facciamo proprio così per passare il tempo e piano piano negli anni vedo anche adesso le nazionali che si allenano sui tappeti elastici appunto per provare prima i salti lì prendere un po' diciamo il piede capire l'aria come bisogna muoversi e dopo sugli sci la componente dell'acrobatica è fondamentale indubbiamente Yuri raccontaci se ti va una tua giornata tipo di questo periodo allora mi sveglio verso le nove se proprio la sera prima non esco verso le nove faccio colazione chiamo sento due o tre amici se vengono a sciare salgo allo snow park verso le dieci alle dieci faccio le mie due piste cinque minuti di riscaldamento di fianco alla casetta del park penso un po' a quello che voglio provare oggi o se voglio prendere una giornata un po' più tranquilla o piuttosto che fare una giornata di filming filmare tra di noi e allora da lì inizio faccio i miei primi giri i primi due salti di riscaldamento inizio un po' a cacciare qualcosa un po' più diciamo un po' più di spesso tu dicevi ci filmiamo tra di noi effettivamente il frischi tolta la parte agonistica può diventare anche una professione a livello di immagine di uomo immagine di atleta per le varie case oppure per per photoshooting e qualt'altro così esatto ci sono proprio anche atleti forti a livello mondiale che comunque potrebbero anche fare gare diciamo come hits game o olimpiadi che loro nella loro stagione invernale si dedicano solo a a far foto a filmare comunque perché hanno diciamo uno stile tutto loro ed è bello sia da filmare che da fotografare hai degli sponsor già? quest'anno sì grazie a diciamo il nostro sport è uno sport che ci aiuta diciamo sia come diciamo sponsorizzare che come gare comunque non abbiamo così difficoltà nei trasporti o così piuttosto anche nei materiali sono stato sponsorizzato i primi primi anni a 13 anni da diverse marche e adesso da due anni che c'è anche un team tutto fisso per i prossimi anni come K2 che mi fornisce shim racchette level guanti e forse zaini e così smith che mi fornisce occhiali da vista sì da vista da sole e mascherine e full teeth scarponi e tailgrab abbigliamento e da quest'anno sono stato sponsorizzato anche Mottolino beh insomma quindi soldi soldini per praticare il friski non ne devi tirare fuori la tua famiglia e già questo è un lato positivo esatto per fortuna ho questa fortuna che comunque mi aiuta non poi sia in trasferte che comunque riesco a portare anche soldi a casa a fine stagione anche se comunque viverci con questo sport ai miei livelli è ancora ancora difficile forse in Italia ma negli Stati Uniti probabilmente i tuoi avversari i tuoi colleghi vivono di di friski esatto anche perché comunque il livello loro sarà sicuramente più alto del mio e sono proprio fortunati che riescono a viverci proprio di questo sport tranquillamente vivere di questo sport significa anche un po' sapersi vendere avere un'immagine essere un po' personaggio ovvio che bisogna anche saper parlare l'inglese come te la cavi Yuri? l'inglese diciamo che io cerco sempre di farmi capire al mio modo dopo ogni tanto se non mi capiscono tiro dentro due parole il Livignasco che più o meno comunque a mio modo mi faccio capire beh l'importante è farsi capire molto bene quindi che cosa cos'hai nel mirino a breve a parte come abbiamo già accennato prima campionati del mondo junior e poi nine nights un obiettivo per la prossima stagione o che cosa vorrai fare da grande ma da grande non ho ancora deciso cosa voglio fare perché ho sia la passione diciamo sul mio lavoro che sullo sci ciò sono ancora un po' indeciso però adesso vorrei continuare comunque a divertirmi come faccio tuttora benissimo e anche perché a Livigno vediamo ci sono tantissimi ragazzini che sciano con questi sci a doppia punta è diventata veramente una moda una passione per tutti che cosa che cosa dici li incontrerai spesso durante le tue giornate sui park hai occasione di parlare con loro che ovviamente Yuri a questo punto ti vedono un po' come un idolo sì diciamo di sì ho sempre cioè diciamo sempre li trovo sempre verso le due di pomeriggio perché vanno a scuola la mattina e allora comunque hanno sempre ognuno il loro gruppetto e li vedi che comunque sono sempre lì a girare belli contenti perché perché si diverte finché finché gli piace io lo consiglio di fare moltissimi con la telecamerina sul casco vuol dire che insomma ci credono esatto poi è bello vedere vedere quel che fai o piuttosto portarlo a casa farlo vedere ai genitori o agli amici a scuola il giorno dopo cosa hai imparato cosa hai migliorato e anche per per te stesso è utile perché riesci a capire dove dove sbagli è vero hai nominato i genitori ti sono illuminati gli occhi io penso che insomma un bella grazie a loro l'abbiamo visto l'anno scorso a Nine Nights è una bella famiglia molto unita che ti sostiene no grazie a Dio mi hanno comunque mi hanno sempre sostenuto in tutto e diciamo e anche l'anno scorso comunque mi si è cioè mi sono proprio rimasto commosso che sono venuti fino a là a vedermi chi è che ti ha spronato di più in famiglia? ma forse diciamo mio fratello Lele non il più grande che ho iniziato a girare diciamo con lui lui faceva gobe all'età di 18 anni ancora insieme a Simone Galli e così diciamo poi i primi freestyler Moguls di Livigno è stato un po' lui comunque mi ha spronato i primi anni che è riuscito anche i primi anni a filmarmi a farmi un video delle foto e mi dava sempre due dritte su cosa migliorare Yuri hai un idolo sportivo sia nel mondo del friski che magari anche di un'altra specialità nel mondo del friski non saprei perché comunque io vedo un po' tutti alla grande comunque io diciamo che stimo un po' tutti non ho il mio preferito vedo un po' tutti tutti bravi esatto e invece un altro sportivo che ti piace ma no su questa non ti viene in mente quindi vuol dire che non c'è invece se non fosse stato un friskiers che cosa saresti stato ma forse o lavorerei ancora cioè lavorerei tutto l'anno o non so sarei il classico che si fa due sciate all'anno per divertirsi e basta non ci ho mai pensato non sapevi proprio dove sarei diciamo finito abbiamo visto sappiamo gli amici non ti mancano quest'anno sei stato ridice anche della coscrizione insomma ci sei divertito un sacco no no è una cosa che proprio la consiglio proprio a tutti perché mi sono proprio divertito un sacco lì è diciamo che è un po' come il freestyle però non sugli sci perché sei in compagnia e ti diverti tutti assieme bene questa era nostra ultima considerazione siamo usciti un po' dal mondo della freestyle ma sappiamo benissimo Alivigno quanto sia importante la coscrizione e naturalmente tantissimi dei tuoi coscritti saranno i tuoi fans e supporter noi ti facciamo davvero un grandissimo bocca al lupo per i mondiali junior per il nine nights speriamo tu possa essere della partita verremo a farti il tipo e forza Iuri grazie soprattutto per questa bellissima puntata grazie a voi e grazie a tutti grazie di nuovo a Iuri Silvestri questa puntata si conclude qui vi ringrazio per la cortesa attenzione vi rimando a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Vita d'Atleta grazie ancora buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti